Giorno da Immobiliari d'Esta, oggi vi proponiamo un appartamento a Torino. Stiamo parlando di un appartamento in corso peschiera, 83 metri quadri al piano rialzato. All'ingresso, tinello cucinino con l'uscita sul balcone, verandato. Si accede poi direttamente alle due camere da letto collegate a un balcone esterno sul lato ovest. Questa è la camera calchettata, l'altra camera l'hanno mantenuta col marmo originale, molto bello. Il bagno con doccia sanitaria e sospesi, l'appartamento è stato ristrutturato 5 anni fa, anche porta blindata, ha serramenti con le chiusure blindate e antifurto. La richiesta è 140.000, chiamateci bene.